Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Naturalmente con la situazione estiva che sta andando avanti le trasmissioni si diradano un po' per riprendere chiaramente a settembre con le nostre trasmissioni normali di Radio Pagana. Nella trasmissione di oggi, intanto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista Stragone e guardiano del Anticristo che vi trasmette sempre i microfoni di Radio Pagana e nella trasmissione di oggi riprenderemo il discorso sull'enciclica Spe Salvi di Ratzinger con precisione precisamente dal paragrafo 21 dell'enciclica Spe Salvi. Paragrafo 21 il cui commento ha il titolo Gli uomini si liberano dalla città di Dio, la nuova Gerusalemme costruita dai cristiani. Ratzinger tenta di paragonare Marx al suo Dio. Cioè in pratica tenta di attribuire a Marx quella verità assoluta, inamovibile che è propria del suo Dio, che è propria del modo di leggere le cose del cristianesimo. Tutti, secondo Ratzinger, hanno una verità, la mia verità è migliore della tua, la mia verità è assoluta, tu ti devi mettere in ginocchio davanti alla mia verità. Questo inquinamento estremamente feroce del modo di pensare le cose, la vita, le relazioni fra l'uomo e il mondo, è proprio del cristianesimo. Il cristianesimo che non lascia nessun spazio alla soggettività, non lascia nessun spazio alle scelte umane perché deve appropriarsi di tutto. Scrive Ratzinger nel ventunesimo paragrafo dell'enciclica Spesalvi. Ma con la sua vittoria si è reso evidente anche l'errore fondamentale di Marx. Egli ha indicato con certezza come realizzare il rovesciamento, ma non ci ha detto come le cose avrebbero dovuto procedere dopo. Egli supponeva semplicemente che con l'espropriazione della classe dominante, con la caduta del potere politico e con la socializzazione dei mezzi di produzione, si sarebbe realizzata la nuova Gerusalemme. Allora infatti, dice Ratzinger, sarebbero state annullate tutte le contraddizioni. L'uomo e il mondo avrebbero visto finalmente chiaro in se stessi. Allora tutto avrebbe potuto procedere da sé sulla retta via, perché tutto sarebbe appartenuto a tutti e tutti avrebbero avuto il meglio l'uno per l'altro. Così, dopo la rivoluzione e l'uscita di Lenin, dovete accorgersi che negli scritti del maestro non si trovava nessuna indicazione sul come procedere. Sì, egli aveva parlato della fase intermedia della dittatura del proletariato come di una necessità, che però, in un secondo tempo, da sé si sarebbe dimostrata caduca. Questa fase intermedia la conosciamo benissimo e sappiamo anche come si sia poi sviluppata non portando alla luce il mondo sano, ma lasciando dietro di sé una distruzione desolante. Marx non ha solo mancato di ideare gli ordinamenti necessari per il nuovo mondo. Di questi infatti non doveva più esserci bisogno. Che egli di ciò non dica nulla è logica conseguenza della sua impostazione. Il suo errore sta più in profondità. Egli ha dimenticato che l'uomo rimane sempre uomo, ha dimenticato l'uomo e ha dimenticato la sua libertà. Ha dimenticato che la libertà rimane sempre libertà, anche per il male. Credeva che, una volta messa a posto l'economia, tutto sarebbe stato a posto. Il suo vero errore è il materialismo. L'uomo infatti non è solo il prodotto di condizioni economiche e non è possibile risanarlo solamente dall'esterno, creando condizioni economiche favorevoli. Questo è ciò che ci racconta Ratzinger nel suo ventunesimo paragrafo naturalmente attraverso la sua interpretazione della storia, attraverso la sua interpretazione di quello che lui crede sia il marxismo, sia Marx, o sia il materialismo storico e dialettico. Diciamo ciò che lui crede, perché lui non definisce. Cioè noi non abbiamo nessuna citazione di Marx fatta da Ratzinger, ma abbiamo semplicemente un'esposizione pseudo-fideistica fatta da Ratzinger su ciò che Ratzinger crede sia Marx. E naturalmente in questo credere che ciò che sia Marx da parte di Ratzinger non lo fa altro che aderire alle condizioni filosofiche, alle condizioni teologiche del cristianesimo. Cioè Ratzinger legge Marx come se fosse un'altra verità, come se fosse un'altra assoluto. Cioè lui, Marx, non ci ha detto dopo come dovremmo fare dopo la rivoluzione. Non ci ha detto quali strutture avremmo dovuto costruire. Cioè non è stata la parola del Dio padrone che si è imposta agli uomini e che ci ha detto come un buon pastore cosa gli uomini avrebbero dovuto fare. Ratzinger trasforma Marx nel profeta, non nell'uomo che sta vivendo la sua vita. Marx in realtà è semplicemente una persona che sta vivendo la sua vita, che coglie delle contraddizioni nella sua esistenza, riassume delle contraddizioni nella propria vita, ma non fa nient'altro di più. Certo, ha delle idee rispetto al futuro, ma le idee rispetto al futuro di Marx appartengono alla sua visione della vita, al suo modo di vivere e di agire nel mondo. Pertanto non è una verità assoluta Marx. Marx vede la realtà della propria esistenza, della propria quotidianità e in questo immagina il mondo nuovo, immagina ciò che si dovrebbe fare per cambiare la realtà. Ma non è la verità. Infatti, se noi ci leggiamo il 18 Brumaio, Marx fa una critica feroce alla Comune di Parigi, cioè al tentativo rivoluzionario del Comunato di Parigi e ha le sue buone ragioni per farlo proprio all'interno di una visione strategica, di una visione di costruzione di una democrazia che in realtà Ratzinger nega perché parla della dittatura del proletariato come lui pensa la dittatura, cioè com'è la dittatura che sta nel pensiero cristiano. Naturalmente quando si appiattiscono i termini, quando ai termini si dà lo stesso identico significato, non si comprende la diversità del pensiero delle persone. Già ce l'aveva detto Bacone questo, citato da Ratzinger, e ci aveva insegnato Bacone che ai termini non corrisponde necessariamente lo stesso significato, ma il significato è relativo alla persona che lo espone nella sua realtà culturale in cui agisce. Naturalmente Ratzinger fa finta di non vedere tutto questo perché ciò che a lui gli interessa è la superiorità del suo padrone, del suo dio padrone. Marx non ha mai vinto perché non c'era nulla da vincere. Il cristianesimo massacra e conquista per imporre l'orrore. I popoli si liberano da quell'orrore in maniera pacifica, quando esistono spazi sociali, quando il terrorismo cristiano offende ogni anelito di vita delle persone. Allora le persone diventano acqua, che accumulandosi contro la diga dell'orrore spezzano ogni legamento traguelgendo quanto impedisce il suo scorrere. Marx non ha mai indicato come realizzare un rovesciamento, per il semplice fatto che Marx non era portatore di nessuna verità da opporre ad un'altra verità. Manifestava l'esigenza delle persone in quel tempo e in quelle condizioni e quanto prospettava era quanto si poteva pensare in quel tempo e in quelle condizioni e data la sua tipologia di analisi. Marx non è il dio dei cristiani, ne agisce con le stesse modalità di verità indiscutibili, piena la morte per torture. Non è nemmeno quel Gesù che emillanta di essere il padrone degli uomini in quanto figlio del dio padrone. Marx manifesta la vita, le sue esigenze, i suoi bisogni e solo per quello che egli intuisce nella sua epoca e nella sua situazione. Non manifesta una verità che impuna agli esseri umani di mettere in ginocchio pena le minacce di terrore e stridor di denti del Gesù dei cristiani. Marx come individuo della sua epoca pensava che l'uomo fosse creato ad immagine e somiglianza del dio padrone e anche se rigettava il dio padrone continuava a pensare l'uomo come un modello di verità immutabile e dal momento che l'uomo in sé era un modello immutabile ciò che poteva essere mutato era la redistribuzione della ricchezza e dei mezzi di produzione per aumentare il benessere sociale o la base sociale che accedeva al benessere. Finché non si realizzano le scoperte scientifiche non si può sapere qual è la trasformazione della società realizzata da quella scoperta finché l'uomo non si libera da quanto prima i suoi bisogni in quell'epoca storica e in quella situazione culturale non si può sapere come sarà l'uomo liberato da quei fardelli e quali altri ostacoli l'uomo individuerà sulla sua strada quali sono i bisogni e le necessità che gli uomini una volta liberati dalle costrizioni di quel momento e come rinnoverà le costrizioni chi è stato costretto a liberare l'uomo che in quel modo teneva prigioniero? Così Marx non sapeva che la costruzione delle piramidi in Egitto altro non era che la maggior ridistribuzione di ricchezza della società che il faraone metteva in atto Marx era convinto società schiavista che effettivamente le piramidi in Egitto fossero state costruite da schiavi e non da lavoratori salariati e ben pagati Marx non sapeva che la catena del DNA legava tutti gli esseri della natura né conosceva gli effetti che sull'uomo aveva la manipolazione mentale imposta ai bambini Pavlov inizierà a scoprire qualche cosa ma quando Pavlov inizierà a scoprire la rivoluzione russa era già stata fatta dice Ratzinger nel ventunesimo paragrafo dell'enciclica Spesalvi ma con la sua vittoria si è reso evidente anche l'errore fondamentale di Marx egli ha indicato con esattezza come realizzare il rovesciamento ma Marx non ha indicato come si realizza il rovesciamento ha indicato ciò che dal suo punto di vista impedisce lo sviluppo dell'uomo e lo ha elaborato da un insieme sociale umano in cui i bisogni impediti premevano per chiedere giustizia contro il regno di Dio dice Ratzinger ma non ci ha detto come le cose avrebbero dovuto procedere dopo egli supponeva semplicemente che con l'espropriazione della classe dominante con la caduta del potere politico e con la socializzazione dei mezzi di produzione si sarebbe realizzata la nuova Gerusalemme non c'è nessuna nuova Gerusalemme in Marx come non c'è nessuna età dell'oro c'è il concetto elaborato dal comunismo del luminoso avvenire in cui si proiettano quelle aspettative che la rimozione dell'orrore del presente prospetta all'uomo un avvenire che non è speranza in quanto è la realtà che si vede partendo dal vissuto presente e non una realtà che si immagina partendo dalla disperazione patologica Marx è all'interno della vita e con Marx milioni di altri individui non è al di fuori della vita che traccia dei cammini alla vita stessa questo essere al di fuori della vita è l'immagine cristiana per cui la vita va dominata da un padrone sia esso il Dio padrone ossia il Gesù che è figlio del Dio padrone pretende di stuprare la vita costringendola in ginocchio davanti a sé essere all'interno della vita significa essere compreso dalla vita realizzando le relazioni empatiche fra soggetto e l'insieme di soggetti che forma la vita stessa significa essere legati da relazioni empatiche che diventano fisiche ed emotive come il cuore o la gamba è legata all'individuo pur procedendo nella vita in quanto cuore e in quanto gamba è Lenin nei quaderni filosofici che ci dà una bella immagine dell'amore sociale dell'empatia di Cernievski piena di quella profonda umanità e amore che manca al Gesù di Nazareth o al Dio padrone dei cristiani scrive Lenin obiettai avvolgin ma dove quando la società non è stata un'accolta di canaglie e tuttavia le persone per bene hanno lavorato sempre e dappertutto sì è naturale per stoltezza gli uomini intelligenti sono stati sempre ed appertutto stolti caro Vladimir Alexevich che gusto c'è a pestare acqua nel mortaio disse Volgin proseguendo nei suoi fiacchi sarcasmi la storia non la fanno le idee o l'attività degli uomini intelligenti ma le stoltezze degli imbecilli e degli ignoranti gli uomini intelligenti non devono mettere il naso in queste cose è sciocco occuparsi delle cose altrui mi creda ribattei anche a questo non si tratta qui di stoltezza il fatto è che non puoi non interessarti di queste cose è intelligente che il mio corpo tremi per il freddo o che il mio petto sia oppresso dal gas è sciocco per me sarebbe meglio se le cose non stessero così ma tale è la mia natura io tremo di freddo mi indigno per le infamie e se stessero così ma tale mi indigno per le infamie e se non ho modo di spezzare il muro della prigione spirituale mi avvento contro di esso con la fronte il muro non vacillerà per questo anche se la mia fronte si spaccherà ma tuttavia io ne avrò un sollievo vedi il suo sorriso indolente lo vedi scuotere la testa eh sì Vladimir Aleksevich è naturale in questo senso lei parla bene dice cose giuste ma mi creda non vale la pena di avere questi sentimenti il problema non è che non vale la pena averne ma che li hai tratto dei quaderni filosofici di Lienni a cura di Ignazio Ambrogio di Torri Riuniti del 71 l'uomo non è creato dal Dio padrone che obbedisce alle affermazioni così se è necessario abolire la servitù della gleba il risultato che si immagina è la società precedente ma senza la servitù della gleba non si immagina quali trasformazioni questo comporta non si immaginano i risultati che si innestano si sa che in quel presente la servitù della gleba fugge da ostacolo allo sviluppo ma quando si abolisce la servitù della gleba si liberano forze immense nella società e nulla potrà né essere come prima né essere ciò che le persone immaginavano prima dell'abolizione della servitù della gleba così né Marx né nessun altro dice come le cose dovrebbero procedere perché né Marx né nessun altro è il padrone della vita come Ratzinger immagina il suo Dio padrone sapiente che però sta solo nella sua immaginazione patologica la nuova Gerusalemme nella testa malata di Ratzinger è la fine delle trasformazioni della vita la fine della vita stessa nella verità manifestata da un presente che chiude ad ogni futuro e questo non può essere dice Ratzinger nel suo ventunesimo paragrafo allora infatti sarebbero state annullate tutte le contraddizioni l'uomo e il mondo avrebbero visto finalmente chiaro in se stessi allora tutto avrebbe potuto procedere da sé sulla retta via perché tutto sarebbe appartenuto a tutti e tutti avrebbero voluto il meglio l'uno per l'altro così dopo la rivoluzione riuscita gli Enin dovete accorgersi che negli scritti del maestro non si trovava nessuna indicazione sul come procedere questo lo dice Ratzinger oltretutto la rivoluzione russa non aveva nulla a che vedere con le osservazioni di trasformazione sociale marxiana che i servi della gleba tendessero ad andare verso una società in cui le loro condizioni di vita erano migliore era del tutto ovvio ma che la manifestazione della tensione sociale fosse così forte da accelerare i processi sociali era inimmaginabile anche dello stesso Marx la socializzazione dei mezzi di produzione era un'ipotesi che gli Enin dovete adottare proprio per l'uscita della situazione della servitù della gleba senza la presenza di una borghesia storica e socialmente diffusa la gestione di uno stato non era un problema che Marx si era posto perché non aveva mai preso in considerazione che uno stato potesse essere gestito dalle masse popolari specialmente in quella situazione in cui si è verificato per Marx doveva nascere una borghesia nell'URSS questa borghesia nacque nella forma di burocrazia di partito per poi trasformarsi nella borghesia attuale per contro i cristiani sapevano perfettamente come si gestisce lo stato e come il dio padrone impedisca a chiunque di mettere in discussione le decisioni e infatti la gestione dello stato sovietico fu un adattamento del cristianesimo all'ideologia socialista l'ideologia organizzativa dei soviet fu quella del comunismo dei vangeli dagli al ricco soltanto la cultura universitaria trattava Marx e la scienza quando si trattava di gestire le relazioni fra cittadini e fra cittadini e di istituzioni e fra istituzioni si usava l'ideologia cristiana compresa l'organizzazione dei gulag di staliniana memoria dice Ratzinger egli aveva parlato della fase intermedia della dittatura del proletariato come di una necessità che però in un secondo tempo da se si sarebbe dimostrata caduca questa fase intermedia la conosciamo benissimo e sappiamo anche come si sia sviluppata non portando alla luce il mondo sano ma lasciando indietro di sé una distruzione desolante Marx non ha solo mancato di ideare gli ordinamenti necessari per il nuovo mondo di questi infatti non doveva più essercene bisogno Marx è uno dei padri dell'etica liberale aveva intravisto la necessità dello sviluppo sociale e culturale come premessa al superamento dell'organizzazione del lavoro che si profilava nella fabbrica ma come questo sviluppo sociale si sarebbe realizzato questo non lo poteva sapere anche perché Marx sottovalutava il colonialismo nascente e un qualche migliaio di altre cosette la fase intermedia per la liberazione dal potere della nobiltà e del clero con la conseguenza di eliminazione dell'analfabetismo e con il necessario coinvalgimento di tutti i cittadini nella gestione dello Stato la fase intermedia era il superamento del cristianesimo del regno di Dio che imponendo il re e le gerarchie sociali mantenevano i cittadini nelle condizioni di servi della gleba e di schiave per comprendere la distanza che c'era fra istanze di libertà e il marxismo che il ventesimo secolo le ha incarnate riporto da storia delle donne dall'articolo di Jean Buberot la donna protestante scrive Buberot il terzo centro antischiavistico femminile fu New York esso raggruppò soprattutto presbiteriane per attività meno di avanguardie il comitato delle donne rimase subordinato a quello degli uomini e le donne bianche e nere si organizzarono in gruppi separati nel 1837 il primo congresso antischiavistico femminile si tenne a New York lo stesso anno fu organizzato un grande giro di conferenze in numerose città della Nuova Inghilterra per sei mesi due militanti originari della Carolina del Sud Sara e Angelina Grinchè presero la parola soprattutto nelle chiese e davanti numerosi ascoltatori uomini e donne fu denunciata la complicità della chiesa nel mantenimento di una situazione di inferiorità dei neri anche liberi l'ampiezza del fenomeno per cui le donne prese la parola il contenuto dei discorsi da esse tenuti potevano provocare solo il dispiacere di gran parte del clero protestante per questo motivo l'associazione dei pastori congregazionisti pubblicò una lettera pastorale nella quale con l'appoggio di citazioni del Nuovo Testamento si esprimeva il giudizio che la funzione delle donne non consistesse nell'occuparsi di affari pubblici alla questione dello schiavismo si aggiunse dunque una controversia sui diritti delle donne questo legame fra i due problemi è importante perché alcune militanti avrebbero potuto essere impressionate dagli argomenti dei pastori se si fosse trattato soltanto dei loro interessi privati ma sembrava loro di combattere per una causa divina e questo le aiutò a resistere ai discorsi religiosi tenuti contro di loro tuttavia le più consapevoli compresero che ormai bisognava lottare globalmente per un nuovo ordine delle cose e Angelina Grinchè scriveva non è soltanto la causa degli schiavi che noi difendiamo ma quella della donna come essere morale e responsabile nel 1838 la sorella Sara pubblicò le sue letters of the equality of the sex and the coalition of women il primo manifesto del femminismo protestante contemporaneo storia delle donne dell'ottocento di Francis e Perrault articola donna protestante di Jean Buberot e il cristianesimo cattolico come porrà le basi per stuprare la rivoluzione francese un passo dell'articolo di Michela De Giorgio sulle donne ci descrive la relazione cattolica nella cultura del modello familiare dopo la rivoluzione francese dice la De Giorgio deriviamo dall'archetipo della madre istitutrice nata con i dibattiti sull'educazione femminile in epoca rivoluzionaria la madre nuova che sviluppa e fortifica prima nel cuore dei figli e poi degli uomini le virtù sociali ed individuali un classico del pensiero pedagogico rivoluzionario da la canale all'italiano Buonarrotti la cultura cattolica della restaurazione accoglie agevolmente questo modello un'eredità facilitata dai contributi della ricerca scientifica in Francia alla fine del diciottesimo secolo l'influenza degli scritti di George Stahl aveva diffuso il credo della preeminenza dell'anima sul corpo il System Physique et Morale delle Femme scritto da Pierre Rousseau nel 1775 per più di un secolo referente teorico fondamentale identificava l'assenza del sesso femminile oltre le ristrettezze fisiologiche dell'organo sessuale fragilità e sensibilità delle donne effetti tutt'altro che negativi nel rapporto fra fisico e morale diventavano positive pertinenze di genere anche l'anima gode dei segni della femminilità dalle fibre muscolari al comportamento morale già dai primi decenni dell'ottocento molti autori cattolici teorizzavano una particolare storica propensione del cristianesimo a guidare questi caratteri sentimentali della femminilità finalmente disancorati da un contrassegno così corporeo quasi carnale libero dal legame di dipendenza fra struttura fisiologica e sostanza psicologica questo modello ideale del femminile si diffonde in tutta l'Europa post-rivoluzionaria l'anima femminile diversa e complementare a quella maschile diventa per la chiesa della restaurazione una riserva di risorse civilizzatrici e di possibilità di conversione non diversamente l'anima femminile è necessaria al pieno raggiungimento dell'umanità per l'idealismo classico la famiglia come nucleo di Sitte Kate nella egeliana filosofia del diritto come per il romanticismo col suo ideale di complementarietà armonica dell'amore agli occhi dei cattolici della restaurazione la dialettica di forza e della debolezza femminile rivelata dalla rivoluzione è uno dei pochi meriti di quell'evento appare un nuovo soggetto sociale incontaminato da passioni politiche con sentimenti così cristiani da essere già perfettamente esemplari al vertice immediato referente politico brillano le prodezze strategiche delle donne e della famiglia reale ma al di sotto c'è una inesauribile rete di risorse femminili senza barriere e di classe prières tendences place caresses sono armi di persuasione la strada intima con cui in Francia le donne sono arrivate ad influire potentemente nella vita pubblica joseph de mestre che teorizza pur le bien comun pur le mal d'influence devoto sex è immense ma non oltre il limite di un nucleo familiare allargato riassume perfettamente il punto di vista dell'epoca una concezione sperimentata il padre Pierre Alexandre Mercier che a Fouvier confessa dal 1850 al 1857 20.000 penitenti una media di 14 al giorno non sappiamo la percentuale femminile raccoglie le sue esperienze di storie di virtù e peccati una serie di conferenze dal titolo dell'influence salutaire o perniciose cares la femme dans les sociétés il testo è consigliato come modello dei predicatori scusate le pronunce delle parole straniere francesi e inglesi ma sono quelle che sono d'altro non conosco le lingue storia delle donne dell'ottocento di Fraise Perrault articolo modello cattolico di Michela de Giorgio le riflessioni dunque di Marx si contrapongono a questa necessità di restaurazione della chiesa cattolica mediante la ripresa del controllo sociale non sono atti di intervento della società come sono atti militari quelli dei predicatori cristiani cattolici o atti di violenza come quella dei cristiani per riaffermare da un lato il controllo sulla donna non sono neppure atti di violenza con cui imporre l'ideologia schiavista come negli USA si tratta di constatazioni dell'inelutabile a cui la società diverrà è un atto di viltà mettere l'azione di Marx in contraposizione all'attività militare svolta dal cristianesimo nella società civile ad esempio la morale del partito comunista italiano era la morale cattolica non la morale marxiana non esisteva una morale marxista ma esisteva un'apertura verso il futuro in cui comunque le società sarebbero approdate sia il partito comunista italiano che la democrazia cristiana erano agenti feroci nel chiedere la prospettiva nel chiudere la prospettiva verso il futuro della società civile da storia delle donne l'ottocento di fraise però articolo dalla destinazione al destino di fraise genevieve leggiamo nella famiglia borghese la proprietà e il commercio costituiscono elementi motori cosa che riguarda le donne e i bambini non meno dei beni Marx saluta in furie colui che è stato capace di denunziare il matrimonio alla famiglia come un sistema di proprietà e la donna come una merce la famiglia dunque è sempre una realtà storica tesi sostenuta da Marx già nell'ideologia tedesca in cui critica Stirner e la sua concezione astratta della famiglia la famiglia evolve secondo le epoche sarebbe quindi assurdo pensare che si voglia abolirla fin dai suoi primi articoli nel 1842 Marx si pronuncia a favore della monogamia e del divorzio nessuna sacralizzazione della famiglia come in Egel e rifiuta a più riprese il comunismo primario che comporta la comunanza delle donne in realtà tale tipo di comunanza è già esistente e va sotto il nome di prostituzione forma commerciale di circolazione delle donne fra gli uomini che ne detengono il possesso come fossero degli oggetti il capitalismo moderno dissolvendo la famiglia proletaria e immettendo le donne nel mercato del lavoro come produttrici al di là della loro funzione di riproduttrici le sottrae allo spazio della proprietà privata familiare avviando in tal modo senza saperlo un processo di liberazione delle donne infatti il lavoro salariato costituisce il primo passo verso l'autonomia delle donne che sarà portata a compimento dal comunismo con la fine della proprietà privata e il mutamento del sistema di produzione in tal modo l'economia non il diritto è la base dell'emancipazione delle donne come della nuova struttura della famiglia tratto la storia delle donne l'ottocento di Fraise Perrault dal titolo dalla destinazione al destino di Fraise Genevieve era una previsione quasi scontata visti i precedenti dei diritti di famiglia leggiamo dall'articolo le contraddizioni del diritto di Nicole Armod sempre in storia delle donne dell'ottocento sulla donna pesa ugualmente l'impossibilità di nuove nozze per un periodo di circa 300 giorni dallo scioglimento del vicolo per la morte o divorzio lutto vedovile allo scopo di proteggere i figli legittimi l'Italia conosce il divorzio dal 1796 al 1815 la Francia lo sopprime l'8 maggio 1816 per motivazioni religiose dopo una lunga battaglia riappare il 27 luglio 1884 legge Nanket le cause salvo un mutuo consenso sono le stesse di quelle previste dal codice civile nel 1804 ma per quanto riguarda l'adulterio siamo ormai alla parità la legge del 6 giugno 1908 autorizza la conversione della separazione legale in divorzio se si è durata almeno tre anni nei paesi anglosassoni il divorzio è sconosciuto fino al 1857 tranne che sotto la forma di una separazione religiosa dagli effetti limitati oppure di un divorzio di lusso proclamato a titolo eccezionale dal Parlamento il Divorce Act del 1857 ne fa un atto giuridico destinato ad avere un peso notevole nelle ex colonie americane dove la legislazione differisce molto secondo gli stati sono soprattutto le donne a ricorrere al divorzio per abbandono e se vizie in particolare durante la rivoluzione in Francia e grazie all'istaurazione del sostegno giudiziario del 1851 a quell'epoca si trattava di separazione legale il divorzio resta comunque un atto raro quasi sconosciuto nelle campagne e praticato soprattutto dalle classi medie sempre tratto dalla storia delle donne all'ottocento di Fresis però articolo con tradizioni del diritto di Nicole Arnaud Duke dunque c'è evoluta la seconda guerra mondiale perché le donne prendessero i posti nelle fabbriche lasciate liberi dagli operai andati a fronte ci vuole il 1970 perché una legge sul divorzio fosse votata in Italia e iniziasse quel lento cammino di trasformazione della famiglia passasse dalla concezione della famiglia intesa come un campo di prigionia come voluta e imposta dal cristianesimo a una famiglia intesa come una relazione tra persone uguali come descritta dalla Costituzione ha dovuto affrontare oltre 20 anni di odio morale della democrazia cristiana del partito comunista Marx vide lontano ma la morale del partito comunista italiano era la morale cattolica la distruzione desolante che l'ha lasciata Marx è nemmeno il desiderio dei popoli di liberarsi dal gioco della città di Dio dei cristiani i disastri sono stati provocati dai cristiani nel tentativo di riaffermare il dominio della città di Dio sugli uomini impedendo loro l'apertura verso il loro futuro il tentativo di riaffermare il dominio della città di Dio sugli uomini impodendo loro la verità alla quale erano obbligati a sottomettersi ha prodotto non solo i campi di sterminio di nazista memoria o i gulag sovietici ma il macello dei popoli africani sudamericani e la devastazione della Cina ad opera dei giapponesi Gesù è il modello di super uomo a cui ogni onnipotente ogni razzista ogni dominatore ogni nazista si ispirava e si ispira la necessità di costringere le persone a sottomettersi ad una verità che doveva essere accettata e non giustificata ha finito per trasformare la società civile in altrettanti mattatoi che impedissero alle persone di guardare al loro futuro un futuro che viene impedito sia dalle guerre di conquista di Israele che dai massacri cristiani della Rwanda dall'uso dei bombardamenti e dei missili con cui redimere le contese internazionali all'uso della tortura e della sparizione delle persone è il dio padrone cristiano l'onnipotente in cui le persone si identificano incapaci di avere un'apertura verso un futuro e di articolare in maniera strategica la loro esistenza è il cristianesimo che si impone sui bambini e che violenta ogni condizione sociale che può portare l'uomo a liberarsi dalla città di Dio che i cristiani gli impongono né Marx né nessun altro nessun individuo che avesse amore per la società in cui vive è una verità alla quale piegare e costringe le persone ogni persona che ha amore per la società in cui vive rimuove gli ostacoli al suo sviluppo solo il cristianesimo mediante l'imposizione della sua verità costruisce muri di filo spinato campi di concentramento e di starminio al fine di costringere le persone alla sottomissione questo odio manifestato dai cristiani manifestato dal Dio dei cristiani dal loro Gesù è veicolato da ogni cristiano nella società civile è la fonte di ogni terrore e di ogni male sociale ad ogni istanza di liberazione sia personale che sociale il cristiano oppone una reazione per riprendere il controllo delle persone per reimporre il proprio dominio ed è la libertà per fare il male che Ratzinger ben esprime scrive Ratzinger Marx non ha solo mancato di ideare gli ordinamenti necessari per il nuovo mondo di questi infatti non doveva più essercene bisogno che egli di ciò non dica nulla è logica conseguenza della sua impostazione il suo errore sta più in profondità egli ha dimenticato che l'uomo rimane sempre uomo ha dimenticato l'uomo e ha dimenticato la sua libertà ha dimenticato che la libertà rimane sempre libertà anche per il male credeva che una volta messa a posto l'economia tutto sarebbe stato a posto il suo vero errore è il materialismo l'uomo infatti non è solo il prodotto di condizioni economiche e non è possibile risanarlo solamente dall'esterno creando condizioni economiche favorevoli il terrore questo dice Ratzinger il terrore di Ratzinger vuole imporre agli esseri umani per poterli stuprare è contenuto tutto in questa visione dell'uomo egli ha dimenticato che l'uomo rimane sempre uomo per quale Ratzinger accusa Marx di aver dimenticato la libertà dell'uomo Ratzinger nei confronti degli altri uomini Marx ha dimenticato la libertà dell'uomo Ratzinger nei confronti degli altri uomini ha dimenticato l'uomo e ha dimenticato la sua libertà ha dimenticato che la libertà rimane sempre libertà anche del male e questo viene sottolineato da Ratzinger Ratzinger dunque accusa Marx di aver dimenticato la sua libertà personale di fare il male agli uomini di stuprarli e di costringerli alla sottomissione perché Ratzinger nell'usare il termine libertà non parla di libertà dell'uomo ma parla della sua libertà di sottomettere all'uomo la sua verità io dice Ratzinger sono morto la legge io sono al di là della legge io sono il dio in terra che manifesta la verità la mia libertà continua Ratzinger è quella di poter imporre la verità e la libertà dell'uomo è quella di pretendere di sottomettersi alla mia verità una verità che è naturale perché la mia verità dice Ratzinger deriva dal mio dio padrone Marx ignorava gli effetti della manipolazione mentale con cui la chiesa cattolica e il cristianesimo in generale manipola i bambini non era il suo campo di studio ma sapeva che le condizioni economiche potevano rendere necessaria la liberazione dell'uomo dalla schiavitù liberarlo dall'essere servo della gleba della sottomissione colonialista che il cristianesimo idealizzava Marx era materialista ma Ratzinger dovrebbe ripassarsi un po' il significato del termine materialista come usato da Marx perché l'unica ideologia bassamente e volgarmente materialista è il cristianesimo un materialismo meccanicista generato nella superstizione non solo espropria la ricchezza materiale per il gusto di costringere la miseria materiale ma considera le persone come becera materia bestiame di un gregge che il cristiano vuole portare al macello della sua madonna ai cristiani interessa soltanto la vagina il Gesù del cristianesimo è solo un volgare possessore di persone un padrone incapace di un minimo di relazione personale che non sia quella col bambino nudo e la nudità è la qualità di possesso che identifica il bambino come oggetto nei confronti di Gesù per il cristianesimo il corpo è solo un oggetto da possedere e da annientare per poter liberare l'oggetto di proprietà del suo padrone l'anima c'è nel cristianesimo solo odio nei confronti di quelle persone che sanno relazionarsi senza possedersi vedi le manifestazioni di odio di Ratzinger Bagnasco e Bertone contro le coppie di fatto nel cristianesimo tutto è becera materia senza una personalità senza un'intelligenza senza una prospettiva verso il futuro corpi oggetti materia che vanno posseduti o distrutti a seconda del capriccio del Dio padrone o di chi lo rappresenta la stessa anima delle persone il loro sentimento e le loro emozioni per i cristiani non solo è un oggetto distinto dal corpo ma è un oggetto che loro e il loro Dio possiedono offendono e stuprano a piacimento avevano ragione gli antichi i cristiani sono degli atei non sanno riconoscere gli dèi negli oggetti del mondo che li circondano hanno bisogno di fantasie morbose Marx individua la relazione dialettica migliori condizioni economico-sociali aumentano le libertà soggettive in quanto alimentano il bisogno di libertà dell'uomo l'aumentare della libertà dell'uomo aumento dei strati di popolazioni che accedono a migliori forme di benessere aumentano la ricchezza sociale la quale a sua volta pone altri bisogni che l'uomo deve cercare di soddisfare si tratta del meccanismo virtuoso della vita che si apre verso il futuro sociale e che Ratzinger nega perché egli non può vedere nessun futuro sociale in quanto impegnato a distruggere le pulsioni umane verso la libertà in questo presente la distruzione dell'aspettativa umana verso il futuro fatto in questo presente la distruzione questa distruzione Ratzinger la chiama la sua libertà e questo è tutto ed è quanto per quanto riguarda il ventunesimo paragrafo dell'enciclica Spesalvi di Ratzinger Ratzinger cerca di distruggere Marx distruggere la visione marxiana della vita proprio perché il progetto sociale di Marx di Ratzinger scusate in questo momento storico è quello di sostituire il cristianesimo al marxismo dal momento che sembra che non ci sia più il comunismo bene Ratzinger vuole sostituire al comunismo il cristianesimo d'altronde il comunismo stesso che era realizzato nei vari paesi nei vari partiti comunisti aveva sostituito la morale marxiana con la morale cattolica con la morale cristiana ebbene il passaggio è semplicissimo in questa sovrapposizione soltanto che Ratzinger si è dimenticato che la libertà dell'uomo è una pulsione della vita non è semplicemente un'espressione ideologica bene io ho finito la trasmissione di oggi vi ricordo che sono Claudio Simeone meccanico aprendista stragone guardiano dell'anticristo e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia stragonaria e paganesimo dai microfoni di radio pagana e vi ricordo che su internet trovate sempre tutto 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 quello che noi diciamo a questi microfoni ciao a tutti eccoci ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti